C'è una questione morale nel PD oppure no? C'è una questione morale in questo paese e nella politica di questo paese e quindi c'è anche nel Partito Democratico. Non c'è una questione morale? Assolutamente sì. Sei dei rotamatori tu? No, non ho per carità. That's the press, baby. The press.